E' un Teramo che sta affrontando forse il momento più importante della stagione e fin qui lo sta facendo nel miglior modo possibile. Alla vigilia del match casalingo contro la sorpresa a Casalbordino, il tecnico bianco-rosso Marco Pomante è soddisfatto per quanto la squadra ha fatto vedere soprattutto nelle ultime uscite, sia nel derby di Coppa Italia contro il Giulianova, sia nell'insidiosa trasferta sul campo della Folgore del Finocuri-Pescara. Abbiamo superato un trittico di partite importanti, difficilissime. Abbiamo superato la grande dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista dei risultati. Però adesso dobbiamo pensare a Casalbordino perché infrontiamo una squadra che fuori casa ha fatto benissimo, che ha 31 punti in classifica e 21 li ha fatti solo fuori casa. E' una squadra che sa difendere con il blocco basso di tutta la squadra, è una propria metà campo, è brava nel ripartire con giocatori come Finizio e Budano che sono giocatori importanti in questa categoria, soprattutto Finizio e Capoglioniere. Contro il Casalbordino sarà un teramo leggermente rimaneggiato con le assenze di Esposito, Palmentieri, Cipolletti e lo stesso Pomante causa squalifica, ma come afferma il tecnico Biancorosso... Non sarà sicuramente un teramo importante, qualcuno ha defizioni perché le sapeva tutte, perché Ciccio e Sposo sicuramente non sarà la partita, lo stesso Palmentieri non sarà della partita e lo stesso Cipolletti che è squalificato. Però andrà in gamba un teramo importante, un teramo forte, che è voglioso di portare a casa i tre punti. Sicuramente sarà una partita difficile perché come ho detto prima troveremo un Casalbordino che si difenderà a basso sicuramente e cercherà di sfruttare gli spazi che gli lasciamo noi. Noi dobbiamo essere bravi nel sfruttare le prime occasioni che ci capitano per poi sfruttare la nostra forza tecnica una volta che il Casalbordino si allunga. Il mantra da seguire per il teramo sarà sempre lo stesso, ragionare partita dopo partita senza pensare all'imminente derby del Fadini. Per noi adesso la partita più importante della stagione è la partita con Casalbordino. La nostra forza è stata quella, pensare partita dopo partita per tutto l'anno e non dobbiamo cambiare la nostra mentalità adesso.